Un passo è stato fatto ma la sensazione è che la parola fine non sia proprio dietro l'angolo. Racconti d'inizio 2022 da via Vittorio Veneto, sede dello stadio Puttilli, chiuso al pubblico da maggio del 2015. Sei anni e otto mesi che Barletta ha trascorso tra cambiamenti di attori politici, di partiti, movimenti di rappresentanza, sindaci e contanto di arrivo del commissario prefettizio. Il 14 gennaio l'impresa CMS di Battipaglia, affidataria dell'ultima tranche di interventi, ha intanto notificato il verbale di fine lavori, un atto che mette un punto sull'esecutività delle operazioni ma apre un'altra fase, forse la più delicata, quella dei collaudi con il parere degli enti per il rilascio dell'agibilità dell'impianto. Altro nodo al fazzoletto che ha ormai assunto le sembianze di un lenzuolo. Siamo al 95% dell'opera, sussurravano da palazzo di città a fine novembre. Mancavano all'epoca l'approvazione del piano sicurezza, le opere di tinteggiatura, l'inseminatura del prato inglese, oltre alla copertura della parte di tribuna che ospiterà i diversamente abili, con l'implementazione delle torri faro che intanto ha superato la fase di contratto. L'assenza della politica che possa sollecitare i collaudi con un'amministrazione commissariata e un ulteriore potenziale freno. Dovrà essere così il commissario prefettizio a interfacciarsi tra gli altri con settore lavori pubblici, coni, collaudatore, prefettura, vigili del fuoco e commissione di pubblico spettacolo. Il tutto mentre Barletta vive uno dei periodi più bui della sua storia recente. Lo stadio Puttilli non esente da questa oscurità. È costato quasi 5 milioni di euro e l'ultima manifestazione ufficiale che ha ospitato fu un Barletta Foggia 01 del 3 maggio 2015. A fine stagione la squadra di calcio fallì, lasciò il professionismo e affondò in eccellenza, dove ancora oggi si trova nel tentativo di risalire ed è costretta a giocare in impianti lontano dalla città, vedi alla voce stadio San Sabino di Canosa, con disagi e spese supplettive per società e tifosi. Da quella data sono passati 349 weekend. In uno di questi il CONI, era il 28 novembre del 2017, pensò bene di inaugurare in pompa magna e addirittura alla presenza dell'ex ministro dello sport, Luca Lotti, la pista di atletica dedicata a Pietro Mennea. Taglio del nastro, foto di rito, post di esaltazione e autoesaltazione, e poi tutti a casa. Sono passati più di quattro anni, sono cambiati i volti, ma il Puttilli no, è rimasto lì come un memoriale degli errori che la lentocrazia e le mancate competenze e assunzioni di responsabilità possono comportare. Ha cambiato volto all'interno, ma è rimasto sempre chiuso al pubblico. Il tutto mentre il denaro anch'esso pubblico è stato sperperato tra finanziamenti persi, fondi cipi acquisiti e utilizzati per le varie perizie di varianti, impianti di videosorveglianza da rifare e detriti da smaltire. Ora siamo sul rettilineo finale, sembra, la speranza è che non ci siano ostacoli inattesi a rallentare ancora il percorso.